stanno arrivando, si, flamoroso incidente con macchina nel fossato del fiume del torrente argentino per vattaggio davanti ai campi di calcio, già un'ambulanza è arrivata, adesso stanno arrivando altri, arrivano là, ma arrivano dall'altro lato, stanno arrivando sulla strada nuova e adesso passeranno dal ponte e arriveranno i pompieri, si perché qua bisogna ritirare via la macchina da lì sperando che, non credo che ci sia più nessuno dentro se cominci a cambarcarsi la macchina si è andata se non puoi, se non puoi, se non puoi ci sia il passo